Si profila un improvviso ritorno in casa Pescara. Quello di José Macin, il centrocampista nativo della Guinea Equatoriale, aveva lasciato Pescara lo scorso gennaio e si era trasferito al Parma a titolo definitivo tramite un prestito con obbligo di riscatto, ma ora fa il percorso inverso con la formula del prestito con diritto di riscatto. La breve esperienza in terra ducale è stata poco proficua, appena due presenze in Serie A, una da titolare, nello scorso girone di ritorno ed ora una posizione molto bassa nelle gerarchie del tecnico Roberto D'Aversa. Così Macin, 30 presenze e 3 gol in due e mezza stagione in biancazzurro, torna in rival adriatico cercando di dare qualità, assist e gol al reparto mediano biancazzurro, un reparto sul quale gli uomini di mercato del Pescara hanno inteso intervenire in maniera incisiva viste le avvisaglie di inizio stagione. Il ritorno del giocatore guineano si somma a quello di Castanos della scorsa settimana e all'approdo del possente svedese Svante Ingelsson. In uscita, nello stesso reparto, il senegalese Mussanghiaie che finisce in prestito in Serie C al Rende. Grande fermento anche per gli altri reparti, in attacco dopo il mancato arrivo di Matos che ha scelto il Lucerna, resta aperta la speranza per Antonio Di Gaudio del Verona e i dirigenti biancazzurri, con l'avvicinarsi al Gong del 2 settembre, confidano nell'abbassamento delle pretese del calciatore o nella compartecipazione dell'Ellas per il pagamento dell'ingaggio. Nel frattempo, sondaggio con la Sampdoria per l'ex lancianese Federico Bonazzoli, che tuttavia proprio un esterno non è. Definito invece l'arrivo dell'attaccante croato classe 2000, Milos Bocic, serbo di origini kosovare. Arriva dall'Udinese nell'ambito dell'operazione Ingersson e può ricoprire il ruolo sia di centravanti sia di esterno. Per la difesa è sempre più in salita la strada che porta al prospetto del Milan Matteo Gabbia e allora la dirigenza del Defino sta svoltando su Mirko Drudi, che ha ancora un altro anno di contratto con il Cittadella e le parti sono al lavoro per trovare la migliore soluzione per concretizzare il trasferimento al Pescara. Chi dovesse arrivare occuperà la casella lasciata sguarnita dalla partenza di Perrotta. Non mancheranno interventi anche per il ruolo di portiere e l'Ancastrati sta per trasferirsi al Lugano e allora servirà un nuovo vice per Vincenzo Fiorillo. Fasi, come si capisce, piuttosto concitate a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, ma nel frattempo il calcio giocato e il campionato chiamano la squadra di Luciano Zauri. Domenica obiettivo riscatto all'Adriatico dove arriverà la matricola Pordenone galvanizzata dall'Exploat ai danni del Frosinone. Non mancano gli interrogativi per Zauri in tutti i reparti. In difesa saranno da valutare Balzano, che sta smaltendo una distorsione alla caviglia, e Bettella, che soffre ancora di una contusione al piede riportata in Coppa ad Empoli. Pronti nel caso, Zappa a destra e la coppia Scognamiglio-Campagnaro al centro. In mediana potrebbe scattare l'ora di Luca Palmiero, mentre in attacco scalpita Di Grazia. Con l'inserimento dell'ex catanese, Brunori potrebbe entrare in ballottaggio con Tuminello per il ruolo di centravanti. Grazie a tutti.